La Vis Nova Filtra Calcio presenta la Fidelity Card, un sistema che offre ai propri abbonati la possibilità di accedere a sconti offerti dai negozianti, commercianti, ristoratori, albergatori di Nova Feltria, portando in questo modo le stesse persone abbonate a ridistribuire il proprio dinaro all'interno del loro paese. Ogni abbonato potrà disporre dello sconto indicato dalle varie attività al momento della sottoscrizione. La Fidelity Card è nominativa, quindi la scontistica è valida solo per le persone indicate ed è in vigore dal 1 luglio 2017 al 30 giugno 2018. Richiedi la tessera alla Vis Nova Filtra Calcio o ai negozianti che hanno aderito. La Fidelity Card che ha aspettato. Abbonati!